Assessore Cecchi, il comune di Termoli è presente a questa importante giornata nazionale che raggruppa le organizzazioni produttrici della filiera ittica qui a Termoli, una specificità locale. Qual è il supporto che l'ente di via sannitica può conferire? Buongiorno, noi siamo qui oggi, io e l'assessore Vaino siamo qui per portare i saluti del sindaco, innanzitutto del vice sindaco che oggi per i pregressi purtroppo non sono presenti all'evento. Il nostro è sicuramente un supporto sentito in quanto per noi questa attività produttiva è un'attività che rappresenta per il territorio un momento importante e anche delicato in quest'ultimo periodo proprio per il caro gasolio. Noi supportiamo le attività locali, quindi la pesca e l'acquacoltura sicuramente avranno il nostro supporto e riteniamo che questa giornata possa essere anche un modo di confronto con le OP nazionali e ringraziamo appunto per l'invito. L'amministrazione comunale gestisce il mercato ittico, una struttura che dovrebbe essere però più al centro di quello che è il pescato nell'Adriatico Molisano. Beh sicuramente, ma sicuramente anche la prossima programmazione vedrà anche dei cambiamenti sul nostro mercato ittico.